Presidente Cadoni, FGC Sardegna, qui per questo torneo 21esima edizione, dobbiamo dire già tantissimo essere arrivati fin qui perché vuol dire che la longevità è anche sinonimo di qualità. Ho fatto i complimenti durante il mio intervento a Enea, a Selysa, alla famiglia, a tutti gli organizzatori perché è 21esima edizione, io so quanto è complicato portare avanti e avere la costanza di continuare a farlo, per cui complimenti più sinceri a loro e a tutti coloro che collaborano alla riuscita di questo torneo. Oltretutto crescono anche le squadre, cresce il numero delle squadre, 800 atleti, 200 di staff, sono numeri grandi. Spaventoso, 40 società, 800 atleti, ho visto poi si sta allargando anche la provenienza delle società che partecipano al torneo e questo lo rende ancora più internazionale, lo rende ancora più importante. Ho sentito personaggi importanti del professionismo italiano, Atalanta, Juventus e altre società che definiscono questo il torneo, uno dei tornei più forti d'Europa, io penso che questo lo sia veramente. Penso che tutti quanti noi dobbiamo remare affinché qui in Terra Sarda possa continuare a esistere un torneo del genere. E soprattutto manifestazioni che servono anche a far uscire la Sardegna fuori dai suoi confini anche a livello mediatico. Assolutamente sì, serve per riuscire a far uscire la Sardegna a livello mediatico, ma serve anche per portare tanta gente qui perché abbiamo bisogno anche di lavorare. Per cui tutte queste cose, tutte queste iniziative organizzate qui in Terra Sarda comunque sono una bella cartolina, un bel abilità, una visita per la Sardegna in giro per il mondo. E poi c'è quell'aspetto sportivo meraviglioso di competizione e soprattutto di confronto che in certi casi con le società più piccole magari è difficile, invece qui hanno la possibilità di scontrarsi proprio con le formazioni di Serie A. Sì, sì sì sì, per cui noi stiamo facendo un bel lavoro riguardo la cultura sportiva e proprio qui in questi tornei che possono riservare la categoria esordienti c'è proprio la possibilità che i nostri ragazzi possano veramente crescere da questo punto di vista. E c'è veramente bisogno di crescita perché bisogna saper vincere, saper perdere, sapersi confrontare in maniera educata, civile per sperare di avere un calcio migliore un domani. Grazie Presidente, allora ci vediamo al Selis. Grazie, grazie mille a voi.